Buonasera a tutti, mi chiamo Aram Manuchayan. Oggi vi voglio parlare dell'azienda Reco World Inted e vi racconto un po' di cosa si occupa questa azienda e come noi possiamo guadagnare dentro l'azienda. Allora, l'azienda è nata due anni e mezzo fa e finora sono quasi tre anni di lavoro di successo che ci permette di fare tanti profitti, si mette tanti progetti nuovi in una continuazione. Abbiamo più di dieci uffici strutturali in tutto il territorio di Federazione Rusa e anche all'estero. Poi un team che lavora in una continuazione sempre, che ci aiuta tutti quanti in team di professionisti che lavorano per noi, per farci guadagnare, per farci stare bene e tranquilli. Finora abbiamo raggiunto già 30 mila partner in tutto il mondo, non solo in Russia. Abbiamo tante, diciamo, soluzioni di investimento già pronte per poter guadagnare. Allora, come è nato il Vecco? Il Vecco è nato da un'idea di mettere insieme l'innovazione di blockchain, marketing multilivello, guadagno passivo e attivo. Insomma, è nato proprio per guadagnare ai partner e di utilizzare le tecnologie nuove e innovative. E' più che altro direi che non è un'azienda, è una comunità, è una comunità delle persone che provenienti da tutto il mondo, che mettendo insieme si guadagnano e fanno belli profitti. Allora, l'azienda utilizza la sua moneta che si chiama WEC, RedCoinPay, e abbiamo anche una moneta, un token, RAIDO, che sono utilizzati entrambi in tutti i progetti dell'azienda. Abbiamo una sua propria, proprio scambio delle cripto, delle monete, CoinGalaxy, che è nata pure con, diciamo, aiuto di tutti i partner. Allora, gli obiettivi dell'azienda sono di creare una piattaforma di commercio sul quale si può, diciamo, le persone di tutto il mondo potranno fare un commercio utilizzando la moneta WEC come metodo di pagamento. Così, facendo uso di criptovaluta quotidianamente, rendiamo più facile l'uso di criptovaluta. Sarà, dato che il mondo della criptovaluta è un po' piccolo ora, c'è solo un per cento della popolazione in tutto il mondo che usa, diciamo, la criptovaluta come una risorsa per il guadagno. L'obiettivo dell'azienda è proprio rendere questo tipo di guadagno, questo tipo di attività quotidiana. Eppure anche per le persone normali, non preparate in materia, facendo anche ridimensionare i moderni strumenti finanziari basati su blockchain e metodi di regolamento nel commercio internazionale. Poi andiamo a vedere i risultati finora che abbiamo già raggiunto. Prima di tutto è la propria blockchain. Abbiamo il proprio blockchain sul quale è nata già la nostra moneta senza commissioni di trattazione sulla rete. Poi i nostri fondi, diciamo le monete WEC e RARA, sono utilizzati in tutti i progetti dove noi potremmo, diciamo, progetti che utilizziamo sono fatti per poter procurare la moneta, dato che l'emissione della moneta per 15 anni saranno 21 milioni di moneta e finora sono stati già emessi 5 milioni. Tutti questi moneti escono grazie a tutti i progetti in quali noi partecipiamo. Poi abbiamo la quotazione della nostra moneta su diversi scambi tipo P2P, B2B, WhiteBit, BTC Alpha e la CoinGalaxy che sarebbero il nostro proprio scambio. Poi che volevo dire che nel WECO noi abbiamo una comunità che ci mette ad aiutare uno all'altro. sempre abbiamo... Mi sentite male? Ora mi avvicino un po' al microfono. Se mi sentite bene fate un segno. Luigi mi senti ora? Ok, mi sembra di sì. Allora continuiamo. Poi che c'è? Abbiamo un altro risultato di quale volevo parlare, il sistema di reclutamento automatico CyberWake, sarebbe un sistema che vi permette di creare il vostro team. Dato che i progetti sono diversi nell'azienda, sono fatti sia per guadagno passivo che guadagno attivo. per le persone che creano le squadre, ci sono, diciamo, per networker, delle persone che vogliono fare le squadre e guadagno molto di più. Per le persone che fanno in passivo ci sono dei progetti in quali potranno partecipare solo utilizzando già fatti dei programmi di investimento. Vantaggi, diciamo, il primo vantaggio è che la moderna tecnologia di blockchain che consente di effettuare transazioni di acquisti e renditi trasparenti e sicuri. Ok, poi la possibilità di effettuare pagamenti istantanei in tutto il mondo. Questo, diciamo, su tutti i vantaggi della blockchain che abbiamo. La moneta che si utilizza, come avevo già detto, in tutti i progetti della comunità rende queste risorse preziose. Quindi, creando questi nuovi progetti che nascono ogni tanto per dare un nuovo spunto alla moneta, per creare un interesse maggiore alle persone che partecipano e cercano di cambiare la propria vita. Poi abbiamo l'opportunità di diventare azionista del nostro stampio di criptovalute Coin Galaxy. Abbiamo la possibilità di acquistare azioni del nostro stampio e così usufruire anche un percentuale di guadagno dalla parte di Coin Galaxy del nostro stampio. Abbiamo accesso a un sistema di formazione che è stato creato proprio su un canale di formazione in quale le persone che non sono avvicinate al mondo di criptovalute e anche al mondo del scambio potranno prendere queste nuove informazioni, potranno imparare a diventare un trader, per diventare un uso, diciamo, dello scambio di criptovalute Coin Galaxy. Proprio perché è stato creato per le persone non esperti. Così è molto facile da utilizzare, molto intuitivo e su questo canale potrete pure imparare ad usarla. Poi abbiamo l'opportunità di diventare, questo l'avevo già detto, programmi da tutte le ore di ingressività. Ok, questo si capisce. Poi volevo dire che Reco è un partner commerciale affidabile. Perché? Perché supporta sempre i suoi partner. Voi avete un supporto dalla parte del team, soprattutto il 24H. Avete un supporto delle vostre, diciamo, upliner, se state creando una squadra e state crescendo in un team, avete sempre un supporto. In qualsiasi, diciamo, avete qualsiasi domanda e non sapete come funziona uno o l'altro, potete sempre chiedere un aiuto e sarà sempre dato l'aiuto. Questo è molto importante perché, diciamo, per le persone che non sono esperti in questo tipo di attività, entrare in un mondo, avvicinarsi al mondo di criptovalute è abbastanza difficile e quindi un supporto dalla parte degli esperti è molto prezioso. Che cosa offre la compagnia? Offre vari tipi di guadagno che noi possiamo fare, diciamo, possiamo scegliere come guadagnare. Ci sono, diciamo, le persone che sono avvicinati al mondo di criptovalute lo sanno che ci sono due tipi di guadagno, di, diciamo, di come procurare la moneta, no, la criptovaluta. E sarebbe il POU e POS, Proof of Work, che serve, usano i minatori, diciamo, un sistema di mining di criptovalute che richiede delle risorse molto pesanti, diciamo. Poi c'è Proof of Stake, che noi utilizziamo la nostra moneta come un, diciamo, come un, tenendo la moneta l'azienda vi da un percentuale sopra, quindi questo non vi richiede nessun tipo di hardware, ma solo dell'acquisizione della moneta o dei piani di investimento. I prodotti sono diversi, cioè, offre la comunità del guadagno. Il primo è Gordon Ratio, un progetto amatrice, diciamo, un progetto amatrice, come dire, basato sul principio del rapporto Aurelio e Fibonacci, vi offre di, è un progetto, diciamo, un modo di guadagno tipo staking. Mettete la moneta e guadagnate come un token profit e sarebbe in binario, che adesso è partito sempre un, diciamo, piano marketing binario, dove voi potete sia mettere la moneta in stake e guadagnare un percentuale sulla moneta e sarebbe un guadagno passivo. O potete creare una squadra o soffrire di maggiori guadagni con dei bonus che riconosce l'azienda per ogni persona che sta creando la squadra. Checkler è un programma di compensazione per vittime dei progetti inaffidabili. CoinGalaxy è il nostro scambio centralizzato di criptovalutare. Your ProfitBot, lo conoscete, penso, tutti, è un progetto di investimento con un piano di marketing lineare. Eppure un investimento di, diciamo, POS. Crypto Accelerator, un'implementazione dello staking, mining della criptovaluta. Poi 1090, un progetto modulare con l'implementazione di Raido, token staking. Questo progetto funziona con moneta Raido. In futuro, Your ProfitBot pure partirà con la moneta Raido e nel binario noi pure andremo a guadagnare con la moneta Raido. Prism Vector, l'implementazione dello staking della moneta Prism nell'ambito della direzione dell'Unione VECO. VEC Auto, abbiamo il programma, diciamo, che è finalizzato dall'acquisto di un'auto in breve tempo, con un successo cashback di 30% del pagamento iniziale dopo l'acquisto del veicolo. Quindi, sul VECO, voi potete acquistare questo piano tarifario, avere un, diciamo, dal 30% del costo dell'auto. Ma dopo uno, se non vuole comprare, può fare un altro piano, fare un altro reinvestimento e poter capitalizzare il suo denaro. far crescere. Questa è un'altra strategia. Il CiberVec è il sistema automatizzato che avevo già parlato per il riclutamento. Cioè, praticamente, è un input pubblicitario che vi aiuta a creare le squadre e di espandere il vostro team. Allora, qua, noi vediamo, informazioni, maggiori informazioni tecniche sul nostro, sulle nostre risorse. Il VEC Token Pay, che è stato lanciato il 21 febbraio 2019, è un token che è stato basato sulla blockchain di Ethereum. Il costo della fase di cosa, la partenza, era 3 centesimi. Finora, dopo il 21 marzo di 2020, è passato sul proprio blockchain, è diventato VEC, come conosciamo adesso. Il programma moneta, criptomoneta. Finora è cresciuto da 30 centesimi. Oggi abbiamo un dollaro e qualcosa. Un dollaro e sessanta. Adesso è sceso fino a un dollaro e 0,5. Vediamo come sta salendo pure ora. Allora, l'emissione, come avevo già detto, sono 21 milioni di monete e calcolate fino al 2034. Il token RIDO è un token TRON basato su blockchain TRC20, con 100 milioni di monete e emissioni che sono rinunciate alla fine del 2020. Comunque, per questo ci sono queste due monete, per poter bilanciare, diciamo, per farvi guadagnare il più possibile. Una moneta, diciamo, vecco è nata per essere utilizzata nel parallel market, questa piattaforma di commercio che sarà lanciata. Invece, la moneta RIDO sarà quella moneta su quale continueremo a lavorare e tutti i progetti saranno sulla moneta RIDO in futuro, oppure maggior parte della moneta. Il potere della criptovaluta, noi sappiamo soprattutto del blockchain che è il decentramento, bassi costi di transazione, nel nostro caso della nostra blockchain è proprio senza costi. I pagamenti veloci, vabbè, riservatezza, questo è chiaro, poche parole a dire, semplici e convenienti. Allora, andiamo a vedere i tipi di guadagno. Noi abbiamo scelto, diciamo, tre tipi di guadagno. Strategia HODL, strategia HODL è stata una, questo termine è nato, non mi ricordo, in 2013 o in un forum, qualcuno magari ha scritto, sbagliato, hold, tenere in inglese, e così è nato questo termine. HODL sarebbe, hold you for dear life, tieni duro per la cara vita. Allora, che vuol dire di cercare di tenere la moneta, di far crescere, far crescere, fare la capitalizzazione più possibile. perché, tenendo la moneta e utilizzando, diciamo, pull of stake, insomma, dove potete mettere la moneta e far crescere, potete in qualsiasi momento ritirare e utilizzare i picchi della volatilità per semplicemente speculare, quindi di fare un guadagno, un profitto. dato che l'emissione è limitata, quindi ogni anno successivo sarà di meno. se, primo anno, abbiamo emesso 5 milioni di monete sul mercato, quest'anno usciranno 3 milioni e mezzo, l'anno prossimo usciranno di meno, e così fino al 2034. dato che l'emissione è limitata, ma crescita degli utenti continua, e quindi la moneta si scarseggia, e quindi in conseguenza salirà il prezzo. questo è normale, e questo, diciamo, la salita costante, noi l'abbiamo visto in tutti questi due anni e mezzo, e vedremo anche in futuro. la seconda strategia è staking, 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 noi abbiamo progetti 10 e 90, dove abbiamo 50% in anno, sullo staking della moneta, veic e del token raido, cripto accelerato, con un rendimento fino a 194% all'anno, sullo staking della moneta veic, e prism vector, dove da 108 a 192% all'anno, sullo staking delle monete prisma. la terza strategia sarebbe il trading, il trading noi possiamo fare sulla nostra, diciamo, sul nostro exchange, sul nostro cambio di coin galaxy, oppure possiamo utilizzare anche altri, altri exchange, dove la nostra criptovaluta va quotata. diciamo, coinverex è più semplice da utilizzare, perché è stata creata proprio dalla nostra azienda, per i nostri partner, qualche interfaccia conveniente, ergonomica e molto semplice, commissioni minime, alta velocità, poi volevo parlare del cyberrec, questa è la piattaforma per attirare il referral, dato che tanti progetti, abbiamo progetti al network marketing, quali richiedono, cioè per fare un maggior guadagno, richiede sempre una crescita della squadra, così, diciamo, potete guadagnare molto di più da, anziché utilizzare semplice guadagno passivo. Cyberrec è un strumento che vi permetterà di creare questo imbutto pubblicitario, quindi è facile da utilizzare, come vedete, annunci facili da impostare, poi mettete il vostro annuncio e il sistema permette di attirare i clienti, diciamo, il pubblico che scegliete stesso voi, quale che vi interessa, e questo è, diciamo, uno strumento di pubblicità che vi offre l'azienda. Direi che per oggi, per un benvenuto, ho cercato di dire tutto quello che potevo trasmettere per oggi. Se ci sono delle domande, sarò lieto di risponderli. Nessuna domanda? Grazie, Andrea. Da quando... cosa, Luigi? Penso che è stato chiaro, noi... Da quando si può investire in Riders Profit? Allora, come ha detto, tra un paio di settimane dovrebbe aprire il Profit Boss, e quindi penso che tra una settimana, la settimana è già una settimana passata, o settimana prossima, o tra una settimana. Grazie a tutti. Se non ci sono più delle domande, io posso chiudere questa trasmissione. Vi ringrazio tutti quanti per essere venuti. Per la settimana prossima cerchiamo di preparare un incontro. Sì, Luigi, anche ad un per cento si potrà investire, ma sai che ora abbiamo... a un per cento potete investire nel... come si chiama... nel binario, nel progetto a binario. Ci sono piani che erano... prima erano da mille euro o da mille dollari, ora da cento dollari si può fare un investimento a un per cento al giorno, del token Profit. Grazie Luigi. Sto migliorando. Ottimo. Ottimo. Vedi che l'azienda, comunque, c'è quello che mi piace, quello che mi piace a me nell'azienda, la flessibilità, che sempre pensano alle persone che stanno dentro. Se nasce qualche problema, nasce qualche inconvenienza, subito si risolve, e sempre per noi, sempre per le persone che stanno dentro, che cercano di guadagnare per i partner. Questa è una cosa buona. Qua, dietro all'azienda, ci sono le persone vive, ci sono le persone vere che ci vogliono bene. Esatto. Finché non parte... guardate che nel... Web Token Profit. Cioè, ci sono dei programmi che vi permettono di guadagnare, non in un attimo subito, ma guardate un po' al futuro, guardate un po' più lontano. Vedete che offrono dei guadagni che non riusciamo neanche a immaginare. Non sottovalutate tutti i progetti. Il mio consiglio, quando entrate, entrate in tutti i progetti possibili. Cioè, maggior numero di progetti. Perché sono, come diciamo, l'ecosistema. L'ecosistema funziona con tutti i progetti insieme. Utilizzando uno... cioè, voi vi limitate nel guadagno. Utilizzando tutti i strumenti. Voi... Le vostre possibilità si moltiplicano. Ci sono altre domande? Sì, altre domande? Sì, altre domande? Vi aspetto la settimana prossima, così andremo a vedere uno dei progetti flagman dell'azienda. Grazie e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.